Nel turno seguente, tre gol di Sivori e uno di Capitan Boniperti consentono ai bianconeri di travolgere il Napoli al San Paolo. Punizione per la Juve, Capitan Boniperti scocca un tiro imparabile, due a zero. Nella ripresa lo scatenato Omar concede il bis e batte per la quarta volta Bugatti. Gli attacchi dei napoletani sono sterili e non approdano a nulla di concreto. Qui Bavassori esce e blocca in due tempi un tiro di Di Giacomo.